Che vuoi? Uomini e donne gossip, svelato il segreto shock di Riccardo Guarnieri Finalmente è venuto alla luce il segreto che Riccardo ha tenuto nascosto a Dida. . Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Cancelletto Uomini e donne, il popolare dating show di Mediaset, che si è recentemente interessato alla nuova registrazione del Trono Over. . Le ultime novità svelano che finalmente si è fatta chiarezza sul segreto di Riccardo Guarnieri, lattuale corteggiatore di Ida Platano. Gossip, Uomini e donne, svelato il passato segreto di Riccardo. . Le novità sui protagonisti di Uomini e donne svelano che il dating show di Maria De Filippi non smente di sorprendere i telespettatori di Canale 5. . Il popolo della rete è in fibrillazione, dopo che il segreto di Riccardo Guarnieri avrebbe le ore contate. . A quanto sembra ci sarebbe qualcosa di inconfessabile nel passato di Riccardo, tanto da mettere a repentaglio la storia già complicata con l'affascinante Ida Platano. . Un segreto che potrebbe mettere davvero la parola fine all'attrazione tra Riccardo e Ida, che stanno diventando sempre più protagonisti delle registrazioni del Trono Over con le loro frequenti liti e conseguenti riappacificazioni. . I fan della trasmissione non aspettano l'ora di sapere quale segreto nasconde il bel Tarantino, che è stato più volte rimproverato dall'irriverente Gianni Sperti per non aver dimostrato il suo amore a Ida. Il passato di Riccardo Guarnieri viene a galla. . 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